Abbraccio dei tifosi, non c'è una vetrata che tenga, sono tutti lì sotto a colpire sulla vetrata perché sanno quanto è importante questo gol all'84esimo, in un momento di grande sofferenza in un momento in cui l'Atalanta sembra avere la partita in mano c'è l'abbraccio anche al presidente Rocco Commisso e tutta la grinta di Iachili eccolo qui, Pulgar, grandissima l'apertura per Lirola che è andato via come un razzo, sembrava peraltro in fase calante, rivediamo qua Palomino allontanato, bellissimo, bellissimo il corridoio trovato da Lirola, è grande, il destro è incrociare, non può far nulla con Lini è un grande portiere, grande reattività, prova a far tutto c'è anche la scivolata, tentata proprio all'ultimo da parte di Palomino non può far niente, vediamo, grande gol di Lirola, 2-1 Viola andiamo prima con Tiziana, mettiamo un altro replay da Lino del vantaggio e poi da Andrea Riscasi, Tiziana si esplosa tutta la gioia di tutta la panchina non è rimasto nessuno seduto